Lunedì a Pescara ci sarà il Consiglio Comunale straordinario. Il deputato Demd Alfonso metterà nero su bianco le sue richieste rivolte al primo cittadino Carlo Masci. No alla realizzazione della nuova sede della regione nelle aree di risulta che invece va pensata in periferia. Quel protocollo di intesa non mette in esercizio nulla. È un protocollo che punta a riconvertire il debito per affitti che viene sostenuto sullo spazio di Pescara per la tenuta degli uffici pubblici regionali e trasformare 2 milioni di euro di affitti in 2 milioni di euro di cespiti. Ma per arrivare ai 100 milioni di euro che servono per fare un palazzo della regione di 20.000 metri quadrati di costruito ce ne serve ancora. Serve un progetto finanziario che non c'è scritto da nessuna parte. Le aree di risulta non devono essere marconizzate, non devono diventare cantieri permanenti. 129.000 metri quadrati possono donare verde, funzione culturale e scorrevolezza degli spostamenti. Pescara può diventare una piattaforma attrattiva di tutto il Mediterraneo, ha rimarcato D'Alfonso. 16 milioni di euro da investire sono già stati ottenuti dalla regione a suo tempo, ma per l'intero progetto occorre un project financing. che metta in concessione la gestione di servizi, la politica della sosta e fare in modo che la contribuzione pubblica contemperi la durata delle convenzioni e delle concessioni di gestione della sosta. Evitiamo di trasformare le aree di risulta in un cantiere frazionato di interventini. Questo va bene quando si fanno gli asfalti, non quando si fa l'intervento maestro che deve condurre la rinascita di Pescara verso il destino della nuova Pescara. Non c'è bisogno di mettere la maschera ad un papocchio. Denudiamo il papocchio e riconosciamo il valore di quelle aree per il futuro di Pescara.